I genitori di Filippo Turetta rompono il silenzio e descrivono l'ultimo periodo complicato del proprio figlio, accusato ora di omicidio volontario aggravato per l'uccisione della ex fidanzata Giulia Cecchettine, è attualmente in carcere in Germania in attesa di estradizione. I due confermano la sofferenza del figlio per la fine della storia. I ragazzi, spiega Nicola Turetta al Corriere della Sera, a quale età si lasciano, si mettono assieme. Lui negli ultimi tempi sembrava tranquillo. In questi giorni mi hanno detto che dovevo preoccuparmi se quando andava a letto abbracciava l'orsacchiotto pensando a Giulia. Io davvero non ho dato peso a questa cosa, avrei dovuto. Poi sostengono una tesi inedita sulle intenzioni di Filippo. Aveva premeditato? Mi sembra impossibile, forse voleva sequestrarla per non farle dare la tesi e poi la situazione è degenerata. Non so darmi una risposta.